I Poliziotti, Calabresi, Mucillo e Panetta, citati nel testo, sono tre dei cinque agenti presenti all'ultimo interrogatorio del compagno anarchico Giuseppe Pirelli. State vedendo, documentano una notte di tensione, una notte di scontri all'interno del Genoa Social Forum. Grazie per la visione! E' tutto fuori controllo, non c'è più controllo ragazzi, non c'è più controllo! Grazie per la visione!